Oggi è partita la quarta emissione del BTP Futura, il titolo di Stato dedicato interamente ai clienti al dettaglio, i cosiddetti retail. L'emissione si svilupperà durante tutta questa settimana, quindi parte nella giornata di oggi, l'8 novembre, e si chiuderà il 12 novembre, salvo chiusura anticipata. Il titolo ha una durata di 12 anni, questa volta, e prevede, come per le altre emissioni, un meccanismo di cedole crescenti nel tempo. La prima cedola sarà pari allo 0,75% e durerà per i primi quattro anni, la seconda cedola sarà pari all'1,25% e durerà per i secondi quattro anni, mentre per gli ultimi quattro anni, fino ad arrivare alla scadenza del titolo, verrà corrisposta a una cedola pari all'1,70%. Il titolo, inoltre, dà diritto a un doppio premio fedeltà. Si chiama fedeltà perché chi acquista il titolo all'emissione e lo detiene fino all'ottavo anno o fino alla scadenza finale, quindi al dodicesimo anno, ha diritto a dei premi che sono legati all'andamento della crescita del PIL nominale italiano durante gli anni di vita del titolo. Il primo premio, che appunto verrà erogato dopo i primi otto anni, avrà un minimo pari allo 0,40% del capitale investito e un massimo pari all'1,20% del capitale investito. Il secondo premio, che viene erogato alla scadenza finale, quindi al dodicesimo anno, avrà un minimo pari allo 0,60% e un massimo pari all'1,80% relativamente alla crescita dei primi otto anni e poi avrà un minimo pari all'1% e un massimo pari al 3% per quanto riguarda la crescita degli ultimi 4 anni. Come sempre il titolo è acquistabile recandosi fisicamente in banca o all'ufficio postale o online, mediante il proprio on banking con le funzioni di trading abilitate, ma ci sono anche modalità alternative per l'acquisto attraverso il canale bancario che sono state messe in piedi come è noto per tenere conto delle misure di contenimento per la pandemia. Il titolo verrà emesso senza commissioni per l'acquirente a prezzo 100% ed è sempre rivendibile successivamente all'emissione sul mercato secondario integralmente o solo in parte. La tassazione del titolo, come per tutti i titoli di Stato, è agevolata al 12,5% ed è importante ricordare che il premio viene garantito anche agli eredi. I proventi che il Tesoro incasserà dall'emissione del titolo andranno a finanziare tutta una serie di misure contenute nel decreto cosiddetto sostegni BIS. Si tratta di misure a favore dei lavoratori, a favore delle imprese, del settore sanitario e dei giovani.